L'Iside svelata di Madame Blavatsky Quel verso profondamente significativo della Genesi, che dice «E ad ogni bestia della terra, ad ogni uccello dell'aria, ad ogni cosa che striscia al suolo, ho dato un'anima vivente» dovrebbe richiamare l'attenzione di ogni studioso ebreo capace di leggere la scrittura nell'originale invece di seguire la traduzione errata nella quale si legge o in cui vi è vita. Dal primo all'ultimo capitolo, i traduttori dei sacri libri ebrei hanno falsamente interpretato il significato del testo. Come dimostra Sir Drummond, hanno perfino mutato l'ortografia del nome di Dio. Così, L, se scritto in modo corretto, dovrebbe essere pronunciato AL, perché nell'originale vi è AL. E secondo Higgins, questa parola significa il Dio Mitra, il Sole, il Conservatore e Salvatore. Sir Drummond dimostra che Beth-El indica la casa del Sole nella sua traduzione letterale e non di Dio. El, nella composizione di questi nomi cananei, non significa Deus, ma Sol. Così, la teologia ha sfigurato l'antica teosofia e la scienza l'antica filosofia. Per mancanza di comprensione di questo grande principio filosofico, i metodi della scienza moderna, per quanto esatti, non approdano a nulla. In nessuno dei suoi rami essa può dimostrare l'origine e la fine delle cose. Invece di seguire le tracce degli effetti partendo dalla loro sorgente, essa segue il processo inverso. I tipi superiori, secondo il suo insegnamento, sono tutti evoluti da tipi inferiori. Comincia dal basso del ciclo, guidata passo a passo nel grande labirinto della natura da un filo di materia. Appena il filo si rompe, la direzione è perduta ed essa si ritrae atterrita dall'incomprensibile, confessandosi impotente. Non così fecero Platone e i suoi discepoli. Per lui i tipi inferiori erano solo immagini concrete dei tipi astratti superiori. L'anima, che è immortale, ha un inizio come riflesso del grande Archeus universale. È semovente e si diffonde dal centro su tutti i corpi del microcosmo. La triste comprensione di questa verità fece confessare a Tyndall che la scienza è impotente anche sul mondo della materia. Il primo ordinamento degli atomi, da cui dipende ogni azione successiva, frustra una potenza superiore a quella del microscopio. Per la sola eccessiva complessità dello studio e molto prima che l'osservazione possa far sentire la sua voce, l'intelletto più preparato e la più raffinata e disciplinata immaginazione si ritirano perplessi senza osare affrontare il problema. Siamo colpiti da uno stupore che nessun microscopio può dissipare, dubitando non solo del potere nel nostro strumento, ma anche di possedere noi stessi gli elementi intellettuali che ci rendano capaci di afferrare le ultime energie strutturali della natura. La figura geometrica fondamentale della Kavala, quella figura che la tradizione e le dottrine esoteriche ci dicono essere stata data dalla divinità stessa a Mosè sul Monte Sinai, contiene nella sua grandiosa perché semplice combinazione la chiave del problema universale. La figura contiene in se stessa tutte le altre. Per coloro che sono capaci di dominarla non vi è bisogno di esercitare l'immaginazione, nessun microscopio terreno può essere paragonato con l'acutezza della percezione spirituale. Ed anche per coloro che ignorano la grande scienza, la descrizione della genesi di un grano, di un frammento di cristallo o di un altro oggetto, data da un fanciullo psicometra ben addestrato, vale tutti i telescopi e i microscopi della scienza esatta. Può esservi più verità nell'avventurosa pangenesi di Darwin, che Tindall chiama uno speculatore che sta spiccando il volo, che nelle caute e limitate ipotesi di quest'ultimo, il quale, al pari di altri pensatori del suo genere, circonda la sua immaginazione con delle solide frontiere della ragione. La teoria di un germe microscopico, che contiene in sé un mondo di germi minori, si slancia in un certo senso verso l'infinito, supera il mondo della materia e comincia inconsciamente ad operare nel mondo dello spirito. Se accettiamo la teoria darwiniana dello sviluppo della specie, troviamo che il suo punto di partenza è posto davanti ad una porta aperta. Noi siamo liberi di restare al di qua o di varcare la soglia oltre la quale vi è l'illimitato e l'incomprensibile, o piuttosto l'inesprimibile. Se il nostro linguaggio mortale è inadeguato ad esprimere ciò che il nostro spirito intravede oscuramente nel grande al di là, mentre è su questa terra, dovrà rendersene conto in qualche punto dell'eternità senza tempo. Non così con la teoria delle basi fisiche della vita del professor Huxley. Senza badare alla formidabile maggioranza di no proveniente dai suoi confratelli scienziati germanici, egli crea un protoplasma universale e prescrive alle sue cellule di divenire d'ora in poi le sacre fonti del principio di ogni vita. Rappresentando questo principio come identico in un uomo vivo, in un montone morto, in un'ortica o in una aragosta, chiudendone la cellula molecolare del protoplasma, il principio della vita, e chiudendone fuori il divino influsso che viene con l'evoluzione successiva, egli serra ogni porta contro ogni possibile scampo. Come un abile tattico, egli trasforma le sue leggi e i suoi fatti in sentinelle a cui far montare la guardia ad ogni uscita. Sulla bandiera sotto cui le raduna è scritta la parola necessità, ma appena l'ha spiegata deride quella leggenda chiamandola una vuota ombra della mia stessa immaginazione. Le fondamentali dottrine dello spiritualismo, egli dice, rimangono fuori dei limiti della ricerca filosofica. Noi oseremo contraddire questa affermazione, sostenendo che sono molto più entro i limiti di questa ricerca che non il suo protoplasma, in quanto esse presentano evidenti e palpabili fatti dell'esistenza dello spirito. E le cellule protoplasmiche, una volta morte, non ne presentano alcuno ad indicare che sono le origini e le vasi della vita, come vorrebbe farci credere quest'autore, uno dei più importanti pensatori del nostro tempo. L'antico cabalista non accoglieva un'ipotesi finché non poteva fondarla sulla solida roccia dell'esperienza registrata. Ma un'eccessiva dipendenza dai fatti fisici portò ad una recrudescenza di materialismo e alla decadenza della spiritualità e della fede. Al tempo di Aristotele era questa la prevalente tendenza del pensiero. E, sebbene il comandamento delfico non fosse ancora completamente eliminato dal pensiero greco, e alcuni filosofi sostenessero ancora che per conoscere quello che l'uomo è dobbiamo conoscere quello che l'uomo è stato, tuttavia il materialismo aveva già cominciato a rodere le radici della fede. I misteri stessi erano degenerati notevolmente in semplici speculazioni sacerdotali e frodi religiose. pochi erano i veri adepti ed iniziati i redi e discendenti di coloro che erano stati dispersi dalle spade conquistatrici dei vari invasori dell'antico Egitto. Il tempo predetto dal grande Hermes nel suo dialogo con Esculapio è raggiunto. Il tempo in cui empi stranieri avrebbero accusato l'Egitto di adorare dei mostri e nulla sarebbe sopravvissuto oltre le lettere incise nella pietra dei suoi monumenti enigmi incredibili per la posterità. I sacri scribi e gli ierofanti andavano raminghi sulla faccia della terra. Costretti per la paura di una profanazione dei sacri misteri a cercare rifugio tra le fraternità ermetiche conosciute più tardi come esseni seppellirono sempre più nel profondo la loro conoscenza esoterica. La spada trionfante di Aristotele spazzò via dalla strada della sua conquista ogni vestigio di una religione una volta pura e Aristotele stesso modello e figlio della sua epoca per quanto istruito nella scienza segreta degli egiziani conosceva poco dei risultati che coronavano millenni di studi esoterici. Al pari di coloro che vivevano al tempo di Psammetico i nostri attuali filosofi alzano il velo di Iside perché Iside non è che il simbolo della natura ma vedono solo le sue forme fisiche l'anima interiore sfugge alla loro vista e la divina madre non ha risposte per loro. Vi sono anatomisti i quali non riuscendo a scoprire lo spirito che dimora sotto lo strato dei muscoli la rete dei nervi e la materia terrena sollevati dalla punta del loro scalpello affermano che l'uomo non ha anima essi sono ciechi come lo studioso che limitando la sua ricerca alla fredda lettera della cabala osa dire che non vi è in essa uno spirito vivificante. Per vedere il vero uomo che una volta abitava nel soggetto disteso sulla tavola anatomica dinanzi a lui il chirurgo deve usare altri occhi che quelli del corpo così la gloriosa verità celata negli scritti hieratici degli antichi papiri può essere rivelata solo a colui che possiede la facoltà di intuizione la quale se chiamiamo la ragione occhio della mente può essere definita l'occhio dell'anima la nostra scienza moderna riconosce un potere supremo un principio invisibile ma nega un essere supremo o dio personale logicamente la differenza fra i due può essere discussa perché in questo caso il potere e l'essere sono identici la ragione umana non può raffigurarsi un potere supremo intelligente senza associarlo all'idea di un essere intelligente non potremo mai aspettarci che le masse abbiano una chiara concezione dell'onnipotenza e onnipresenza di un dio supremo senza investire di questi attributi una gigantesca proiezione della loro stessa personalità ma i cabalisti non hanno mai considerato l'invisibile Enzov altrimenti che come un potere finora i nostri moderni positivisti sono stati anticipati di migliaia di secoli nella loro cauta filosofia quello che l'adepto ermetico afferma di dimostrare è che il semplice buonsenso esclude la possibilità che l'universo sia il risultato di un semplice caso un'idea simile gli appare più assurda che il pensare che i problemi di Euclide siano stati inconsciamente formati da una scimmia che giocava con le figure geometriche pochissimi cristiani capiscono seppure ne sanno qualche cosa la teologia giudaica il Talmud è il più oscuro degli enigmi anche per la maggior parte degli ebrei mentre gli studiosi ebrei che lo capiscono non si vantano della loro conoscenza i loro libri cabalistici sono ancora meno capiti da loro perché ai nostri giorni vi sono più studiosi cristiani che ebrei impegnati a liberare le grandi verità contenute in essi e quanto meno ancora è conosciuta la cabala orientale o universale i suoi adepti sono veramente pochi ma questi eletti eredi dei saggi che per primi scoprirono le verità astrali sul grande scemaia della scienza caldea hanno risolto l'assoluto e adesso riposano della loro grande fatica essi non possono andare oltre ciò che è concesso di conoscere ai mortali di questa terra e nessuno nemmeno questi eletti può passare oltre la linea tracciata dal dito della stessa divinità i viaggiatori hanno trovato questi adepti sulle rive del sacro gange li hanno sfiorati nelle silenziose rovine di Tebe e nelle misteriose camere deserte di Luxor nelle sale sulle cui volte azzurre e dorate fatidici segni attraggono l'attenzione il cui significato segreto non è mai penetrato dall'osservato rozzioso quegli adepti sono stati visti ma raramente riconosciuti memorie storiche hanno ricordato la loro presenza nei saloni brillantemente illuminati dall'aristocrazia europea essi sono stati anche incontrati nelle aride e desolate pianure del Sahara come nelle caverne di Elefanta possono essere trovati dappertutto ma si fanno riconoscere solo da coloro che si sono dedicati ad uno studio disinteressato e non torneranno facilmente indietro Maimonide il grande teologo e storico ebreo che un tempo fu quasi divinizzato dai suoi concittadini e poi trattato da eretico fa notare che quanto più il Talmud sembra assurdo e vuoto di senso tanto più sublime è il suo significato segreto questo dotto ha luminosamente dimostrato che la magia caldea la scienza di Mosè e di altri eruditi taumaturghi era interamente fondata su una vasta conoscenza dei vari e adesso dimenticati rami della scienza naturale perfettamente al corrente di tutte le risorse dei regni vegetale animale e minerale esperti nella chimica e nella fisica occulte ed anche fisiologi come erano non c'è da stupirsi se i diplomati o adepti istruiti nei misteriosi santuari dei templi potevano fare meraviglie che anche ai nostri giorni illuminati apparirebbero soprannaturali è un insulto alla natura umana marchiare la magia e la scienza occulta col nome di impostura credere che per tante migliaia di anni metà del genere umano abbia praticato l'inganno e la frode sull'altra metà equivale a dire che la razza umana era composta solo di furfanti e di idioti irrecuperabili qual è la regione in cui la magia non fu praticata in quale secolo fu totalmente dimenticata